Tre condanne e due assoluzioni, ma l'accusa sull'esistenza del cosiddetto sistema montante ha retto al vaglio dei giudici della Corte d'Appello di Caltanissetta. Dopo otto ore di Camera di Consiglio, la Corte ha ridotto la pena per l'ex vicepresidente nazionale di Confindustria Antonello Montante a otto anni rispetto ai 14 decisi in primo grado. Pena ridotta anche per il capo della security di Confindustria Diego Di Simone, che si è visto infliggere cinque anni rispetto ai sei anni e quattro mesi del processo di primo grado, mentre al sostituto commissario Marco De Angelis sono stati inflitti tre anni e sei mesi rispetto ai tre anni del primo grado. Assolti l'ex comandante provinciale della Guardia di Finanze e della DIA di Caltanissetta, Gianfranco Ardizzone, condannato a tre anni in primo grado, e il questore Andrea Grassi, dirigente della prima divisione del Servizio Centrale Operativo della Polizia, a cui è stata cancellata la condanna a un anno e quattro mesi, decise in primo grado. Tutti e cinque gli imputati avevano scelto il rito abbreviato. Attualmente sono pendenti altri due processi in ordinario davanti al Tribunale di Caltanissetta. Associazione a delinquere, corruzione, accesso abusivo al sistema informatico, rivelazione di segreto d'ufficio e favoreggiamento, i reati contestati a vario titolo agli imputati. Secondo l'accusa, Montante avrebbe messo in piedi un'attività di dossieraggio, potendo disporre di notizie riservate per colpire i propri avversari e avrebbe condizionato la politica regionale. Una ventina le parti civili costituite nel processo, tra cui il comune di Caltanissetta e la regione siciliana, che saranno risarciti rispettivamente con 30.000 e 10.000 euro per i danni di immagine subiti. Per i privati i risarcimenti variano da 5.000 a 15.000 euro. L'ultima parola aspetterà la Cassazione.